Dopo la maratonina arriva a Cremona la Christmas Run, gara non competitiva di 5-10 km aperta a tutti i corridori esperti e non adatta a tutta la famiglia e ai bambini. Una corsa benefica per festeggiare il Natale attraverso lo sport e grazie a Verona Marathon Eventi che quest'anno ha deciso di esportare la sua creatura anche in terra cremonese e a Modena. E' qui che giovedì 8 dicembre partirà il triduo natalizio della corsa per proseguire a Cremona l'11 e compiere il gran finale a Verona il 18 dicembre. Partecipare è facile, le iscrizioni per quanto riguarda la tappa cremonese sono aperte dal 17 ottobre e già in 250 si sono prenotati, ma gli organizzatori contano di trascinare per le vie della città almeno un migliaio di persone. Per far parte del gruppo c'è tempo, si può aderire fino a un attimo prima della partenza fissata per le ore 10 in piazza Stradivari. Costi abbordabilissimi ricordando che tutto andrà in beneficenza, 6 euro per il pettorale e un cesto con prodotti gastronomici, 12 se si vuole anche il costume da babbo natale. Come resistere? Per avere più informazioni basta andare sul sito della manifestazione www.christmasrun.veronamarathon.it